Presidente, poi ci sono due libri, uno che riguarda il Feito e un altro che riguarda l'intera città. Lui è il Presidente dell'Associazione Profaito Onlus, molto lieto, benvenuto, e questo è il libro che noi abbiamo scritto sul Feito, il Feito che merita tantissimo e veramente si può sviluppare con il tracking e con tutti i discorsi. Grazie.